Se è finito, frere, diabolo, dommagio, asciugamente il francese, loro parlano così, che sarebbe a dire, è finita, francese, mi dispiace, mi dispiace, a essi mi dispiace, i suoi segreti, e tutti quelli che sono fatto passare, sette anni fa, eppure stavolta, mica c'è niente tanta vicina, l'altra volta si è venuta a scappare, stavolta è andata venuta, alla fine hanno venciuto, però non è che hanno venciuto tanto facile, alla fine mi hanno scappato, che sai? E oggi, 11 novembre 1806, è arrivata l'ora meno, dove alla piazza c'è l'aspetto di Trabucca, che te ne sta dicendo? Trabucca, che ne sta dicendo? Non me ne frega niente, ma ne vedo, a chi gli piace questo? A nessuno gli piace questo, manca a me, però quando tocca, tocca. La cosa che veramente, mi dispiace di tutto, è che la sua moglie, ma i tuoi figli piccoli, però, se la mia moglie può uscire, si è fatta la volontà sì, tanto alla fine, si sa, che chi non ci sta, non ci senta, se la moglie, ma i tuoi figli, si è campata, campano o con me, o senza me. La cosa che mi dà fastidio, è tutta la cerimonia che fanno. Potevano fare una cosa spiccia, non siamo incendente di quello, la scoppettata, e è finita tutto. E no, il quadro era arrivato, io ti confesso, è arrivato il confessore, mi sono confessato, poi si è messo a parlare, io sono cercato di impecciare i capi di ghiacchia, ma mi sa che chi non ci ha capito niente, tanto, chissà uno, che accompagna il condannato per un mistero, o soffre a diavolo, o so se è francisco, visto è la stessa cosa. E io, che alla fine mi chiami Michele Arcangelo Pezza, io so addirittura duca di Cassano, per tutti quanti vogliessi frattiamo, io so stato frattiamo per tutta la vita, io so frattiamo pure il mondo, un punto di morte. Se vedi contro i francesi, io so contiene di resta la parte. Ora mi erano fatta pure la proposta, di passare a chi si, che stesse grado che teneva, grado del colonnello. Sono detto no, gli uomini tenero solo, quando hai fatto il giuramento, gli erano rispettati, fino alla fine. Yes, oggi che sei? Mi hanno portato alla messa, mi sono fatto la comunione, e ora che siamo dalla chiesa, e se vedi già i traboccolo che ballano, tutta la gente che mi chiama, chi può toccare, si sente pure che la scoppettata, lontana, chi stridola, chi cosa, state per calma, io so ditte, state per calma e pensate buono a quello che ti avete fatto. e lo mio lo so fatto, ora mi ne voglio, e poi teneva di continuare, ma teneva di sapere bene, quello che teneva di fare. faccia il fuoco, 11 novembre 1806, Samuretta Michele Arcangelo Pezza, Duca di Cassano, ma fra diavolo non sei morto, tanto è vero, che chi riduce in d'Europa, ancora stanno a parlare di essi, perché alla fine, fra diavolo siamo noi, e gli spiriti della gente nostra, quello che siamo capaci di fare, quando ci mettiamo, ci impegniamo, e lo facciamo, fino alla fine, fra diavolo, insieme a noi, insieme a noi pure, quello che siamo fatti nel 1799, ancora esiste, a copparte, rende a noi, a nascosta, ancora c'è stato, e ricordatevi, chi lo fa ascoltare nel 1799, lo vede a far ricordare, in una domanda, la vostra danziana, nella vostra danziana, sempre vuote, ne vuote. Grazie.